Sono passati ormai una decina di giorni dalla conferenza Sony alle 3 2018 e ormai la community si è ampiamente espressa sul nuovo trailer di Death Stranding. Il nuovo criptico teaser, come al solito, aggiunge più carne al fuoco di quello che una prima e superficiale analisi potrebbe mai pretendere di far notare. E dunque, come promesso, rieccoci qua, con quelle che ritengo le più interessanti teorie e speculazioni che ho letto in questi giorni, sia tra i vostri commenti, sia sui forum e sui siti specializzati. E io direi che possiamo iniziare subito. La teoria più discussa finora è stranamente non legata ad un qualcosa di estremamente misterioso, ma legata a doppio filo con il nome completo che viene affidato al protagonista del gioco, Sam Porter Bridge, dove Porter pare sia effettivamente solo un nomignolo o di una mansione, che letteralmente significherebbe colui che trasporta, un po' come se si chiamasse Sam Fattorino Bridge. Ben più interessanti sono invece le teorie basate appunto su Bridge. Ritorniamo per un momento alla foto di famiglia che Sam raccoglie nel trailer. La donna rappresentata nelle foto, infatti, altri non è che Liz de Wagner, nella sua età reale però, ben diversa dalla sua versione giovanile digitalizzata nel trailer. Dando un occhio più attento alla fotografia, infatti, si può accorgersi del fatto che le tre figure si trovano in una sorta di sala ovale. Sia Sam che la donna presentano un'età più avanzata rispetto a quello che dimostra poi il modello poligonale, infatti, se notate bene, Sam ha delle occhiaie abbastanza evidenti, anche delle rughe di espressione. Mentre la terza e giovane ragazza potrebbe essere un'ipotetica figlia in stato di gravidanza. Tra l'altro, un dettaglio, una goccia cade nel viso della presunta figlia e subito l'immagine inizia a cancellarsi. Kojima non è tipo da dettagli casuali, parola mia che questa ragazza ha passato un brutto momento. In ogni caso, questa potrebbe essere la famiglia Bridge, che potrebbe appunto aver fondato l'omonima dita di consegne. Lea Seedux, che ancora non so come si pronuncia correttamente, afferma che i ricordi di Sam legati alla foto non potranno venire cancellati dal Timefall, eppure, quando apparentemente Sam incontra Nisday, non la riconosce. Sì, insomma, come per Lordran di Dark Souls, pare che anche in Death Stranding il tempo non sia solo sfasato, ma anche distorto ed interconnesso. Focalizziamoci ora sul poster dedicato al Nisday Wagner. La collana da lei indossata, infatti, racchiude un messaggio segreto ispirato ad una notazione inca. La traduzione, scoperta da un utente russo, conduce a null'altro che al ritornello di Give Me an Answer dei Love Roar, che già prestarono le loro canzoni per i primi due trailer di Death Stranding. Pare, infatti, che Kojima avesse precedentemente contrattato il Love Roar per fargli creare una canzone che parlasse specificatamente di Death Stranding e che il video musicale sia stato creato con la trama e l'ambientazione di gioco fortemente ispirati al titolo. Diamo un occhio per un momento a questo videoclip musicale. Al minuto 1.15 del videoclip si può vedere sullo sfondo un quadro che ritrae la spiaggia della Normandia e potrebbe essere un riferimento ai soldati visti nel secondo trailer. Tra l'altro, ora che ci penso, non li abbiamo più visti nei nuovi trailer. Vorrei saperne di più, vorrei vederli nel prossimo trailer, magari quello sì di gameplay vi interesserebbe vedere. Va bene, la seconda analogia che troviamo riguardante Death Stranding è quella sorta di petrolio che cola nel viso della ragazza come accadeva a Mikkelsen nel secondo trailer e quei cavi neri collocati nella doccia, anche essi ricollocabili alla figura di Mikkelsen. Mentre l'ultima connessione, altro non è che un sound effect distorto, che si può sempre ricollegare al secondo trailer. Strano che praticamente tutte le analogie tra videoclip e Death Stranding siano da ricollegarsi tutte e tre al secondo trailer. Molto probabilmente Kojima commissionò il lavoro in quel periodo e quindi il materiale proposto era quello. Sta di fatto che i Love Roar si stanno vendendo letteralmente il culo per un po' di buona pubblicità. Torniamo alle cose serie. E per un attimo basta parlare di spunti di trama, parliamo piuttosto di spunti di gameplay. Si vocifera infatti che il modo in cui cammina Sam quando trasporta i pacchi più pesanti non sia diciamo automatizzato. Ossia, potrebbe essere che per muovere il protagonista non sia necessario muovere solamente la levetta analogica, ma bensì cercare in qualche modo di compensare il peso che sta trasportando. È evidente infatti che Sam venga sbilanciato in maniera troppo poco motion capture e più in maniera pad alla mano, se così possiamo dire. Inoltre, cosa accade nel momento in cui un pacco venga perso per colpa del giocatore? Cosa implica la perdita di tali importanti oggetti? Rimanendo sempre in tema gameplay, la scena stealth del trailer mostra infatti come Sam si porti le mani alla bocca prima una e poi l'altra, tra l'altro, per trattenere il respiro. Questa meccanica potrebbe, anzi quasi sicuramente, non sarà automatizzata, ma potrebbe essere una barra della stamina che si ricarica o qualcosa di simile, una barra dell'ossigeno. Implica componenti survival nello stealth e non solo un muoviti piano e non far rumore, ma appunto, come già specificato dai personaggi negli altri trailer, non respirare nemmeno. Torniamo ora alle speculazioni di trama. L'allergia chirale di cui si parla nel trailer pare infatti essere legata alle lacrime spontanee viste dal terzo trailer in poi. Inoltre, una cosa che io non avevo personalmente notato, quando Sam guarda fuori dalla caverna ricompaiono ancora le cinque figure volanti dei precedenti trailer, ma stavolta in trasparenza, forse per via del termine imminente del Timefall. E ora, mentre ora abbiamo un dettaglio che mi è stato fatto notare. Nel terzo trailer c'è un momento in cui si può leggere nella tuta arancione di Bridge, squadra di smaltimento cadaveri, ed infatti quando Sam trasporta il cadavere indossa la tuta di Bridge. E ho notato che è l'unico momento del trailer, o quasi, in cui la indossa. La usa qui e nella sezione start finale, dove però non trasporta nessun pacco. Forse l'aveva già consegnato o poi doveva ancora andare a prenderlo. Essendo in possesso di questa informazione mi sono fatto una personale idea. Gli abiti che Sam indossa non sono personalizzabili dall'utente, ma bensì sono in base a cosa trasporta. Arancione per i cadaveri, e poi potrebbe essere, che so, blu per le provviste, e bianco per i medicinali. Potrebbe essere? Che ne dite? Il personaggio di Lea, appartenente alla Fragile Express, porta come logo delle mani scheletriche, riconducibili forse all'unità di Mikkelsen. I due personaggi potrebbero essere correlati anche per via del fatto che entrambi compiono la stessa gesture. Ricordate sempre che Kojima non fa cose casuali, non mette dettagli casuali, quindi qualsiasi indizio potrebbe essere valido. Potrebbe essere infatti che ci siano delle protezioni militari quando ci si affida a delle consegne particolari, come potrebbero essere i feti o i cadaveri, e qui potrebbe entrare in gioco appunto la Fragile Express. E torniamo a parlare del mio argomento preferito, ossia i feti. Feti, esatto, continuo a dire feti, a quanto pare invece dovrei iniziare a dire feto, considerando che Kojima ha confermato che il bambino presente nel trailer è unico. Dico dovrei anziché devo. Perché? Perché Kojima non è stato chiaro nello spiegarsi. E quando Kojima non è chiaro nello spiegarsi, di solito è fatto apposta. Il feto è unico in che senso? È l'unico presente in tutto The Stranding? Io lo ritengo improbabile e ritengo piuttosto che sia unico per qualche tipo di potere. Appunto, la possibilità di rinascita di Sen. Quindi un'unicità nel gameplay ma non nella trama. La prossima cosa invece mi ha fatto ridere di gusto leggendo certi commenti, che mi domando se la gente è idiota o che altro. Nella scena in cui Lea regge l'ombrello, se fate caso, quest'ultimo si gliccia, si bugga, mostra come un segno di buffering. E leggo commenti di gente che dice Ma Kojima non si è accorto che montando il video il render lo ha sminchiato? Cioè ragazzi, ma siamo seri. Ma voi vi rendete conto che era un trailer in una premiere dentro una conferenza alle 3? Perché ok che spesso queste analisi si basano sulla fuffa, ma certi commenti si basano sull'idiozia. E dai ragazzi, queste non sono cose casuali, sono cose volute. Vi porto in ogni caso all'attenzione di questa scena, perché mi era sfuggita la città sullo sfondo. Questa inoltre è la seconda città che si vede nel trailer. La prima appare invece nel momento in cui Sam imbraccia il fucile, l'unica scena dove viene infatti mostrata un'arma. Su questo voglio focalizzare l'attenzione. Sappiamo che Kojima sconsiglia l'uso delle armi in Death Stranding. E allora perché Sam imbraccia il fucile in maniera preventiva appena scorge la città in lontananza? Forse un po' come in The Last of Us, dove gli infetti non sono l'unica tipologia di nemico che il giocatore potrebbe incontrare, in Death Stranding le presenze non sono l'unico nemico? Ricordiamoci sempre gli scheletri di Mikkelsen. Ulteriore particolare che io non avevo notato, o meglio ricollegato, è il criptobiote che Lea si mangia con tanto entusiasmo, che altro non è che una delle bestiacce che Sam vomita dopo la presunta risurrezione nel terzo trailer. Quindi può essere che per rinascere bisogna avere una combinazione di feto e criptobiote? Ora invece vi chiedo una cosa io. Non leggo teorie sull'orribile tatuaggio che ha Sam nella mano. Quella specie di teschio orribile che sembra disegnato da un bambino. Dal feto magari. Rappresenta qualcosa? Avete qualche idea? Scrivetemelo in un commento perché sono estremamente curioso. Sembra incredibile ragazzi, ma anche se sicuramente ho dimenticato altri dettagli, non ho praticamente più nulla di interessante secondo me di cui discutere. Ma prima di salutarvi, voglio aprirvi gli occhi su due cose e fare un piccolo sfogo personale, perché sono stanco veramente di leggere sul web commenti idioti e teorie campate semplicemente per aria. La prima e più importante cosa stupida che mi dà personalmente fastidio, Death Stranding è Metal Gear Solid 0. Death Stranding è PT. Ma ragazzi, ma veramente? Ma veramente credete alle stronzate che certi canali tirano su per farsi tre visual in più? Per favore, no. Ragazzi, Metal Gear è morto. Fine. End of the line. Kaput. Konami ha in mano il brand. Non Kojima. Io spero che guardate certi video per farvi 4 risate e che non li prendiate seriamente. Persino io non ritengo i miei stessi video fonti accurabili. Ma ragazzi, al momento nessun video è accurabile. Non stiamo facendo un riassunto del gioco. Stiamo cercando di capire di cosa parla. Ma non pensavo avrei mai dovuto farvelo notare. Ma di cosa stiamo discutendo? Ma lo conoscete Kojima? Quando mai un trailer ha mai mostrato veramente la trama nello specifico dei suoi titoli? A parte The Phantom Pain che svelava tutto fin dal teaser. Betray your audience. Questa è la frase emblema di Kojima. Tradisci il tuo pubblico. Tradisci le aspettative. Seguitelo. Fatevi coinvolgere dallo sviluppo. Ma non credete a mezza parola o quasi di quello che dice. Guardate i video analisi su YouTube. Ma dateli peso fino a un certo punto. Ecco che già legarlo a PT è più consono direi. A PT però. Non a Silent Hills. Ah, e anche qui. Non per tematiche. Ma solo per probabili idee che Kojima potrebbe avere. E per un probabile mood horror. Ma oltre questo. Basta. Basta. Seconda cosa che mi preme capiate. Non alimentate i commenti in stile. E' un working simulator. Ma ragazzi. Ma ancora una volta. Ma seriamente. E' già una grazia che Kojima vi abbia fatto vedere così presto l'environment di gioco. Sicuramente Sony gli ha rotto i coglioni. Le ha detto fa vedere qualcosa. Perché la gente su internet si lamenta. E quindi lui ci ha mostrato questo stralcio di gameplay piccoletto. E quindi lui ci ha mostrato questo... E quindi lui ci ha mostrato questo stralcio di gameplay. Eh ma Kojima è lento. Ci mette troppo tempo a fare i giochi. Però nessuno si è lamentato dei 4 anni di sviluppo di Uncharted 4. Vero? Sì. Kojima è fastidioso. Sì. Se la tira come una donna davanti allo specchio. Ma sa quello che fa. Perché Kojima viene visto come uno che non lavora? Perché mette le foto di quando mangia? Perché mette le foto di quando va in giro per il mondo? Ragazzi. Lo strui sta lavorando. Da quando mangia. Ma sta lavorando. E' uno degli sviluppatori più prolifici della storia Kojima. Lento un cazzo. Nel tempo che Square Enix ha sviluppato Final Fantasy XIII vs. Diventato poi quel disastro chiamato Final Fantasy XV. Kojima ha sviluppato l'intera quadrilogia fatta e finita della Metal Gear Saga. Devo nominare Kingdom Hearts 3? No. Dai. Per favore ragazzi. Perché su via. Anche noi fan sappiamo che la vera Metal Gear Saga finisce col 4. E che Peace Walker, Ground Zeroes e The Phantom Pain sono solo delle aggiunte piacevoli. Ma dal 98 al 2008 Kojima ha creato e messo la parola fine ad una delle più grosse opere mai concepite nell'intrattenimento. Non del videogioco. Dell'intrattenimento. E sia chiaro non sto tirando l'acqua per il mulino di Kojima. Perché probabilmente di persona è odioso. Io me lo immagino che è una persona odiosa. Mi immagino perché Konami gli ha dato un calcio nel culo. Mi immagino i soldi che spende per sviluppare un gioco. Però poi quando esce, lui e nel mercato videoludico solo lui può permettersi di scrivere a Hideo Kojima Game nella copertina? Non ho mai visto un gioco scritto a David Cage Game. A Cory Balrog Game. Non esiste, è l'unico autore che può permettersi con la cosa nella copertina. Forse lo fa perché è spocchioso, ma allora perché anche gli altri non lo fanno? Perché vi assicuro che David Cage è ancora più spocchioso, è ancora più rompi i coglioni di Kojima. E allora perché lui può permettercelo e gli altri no? Non è per tirare acqua al mulino di Kojima. È perché è un autore coi coglioni. David Cage ci ha messo, se non mi sbaglio, sei anni a sviluppare Detroit Become Human. Sei anni? Ma nessuno ha detto niente. Nessuno si ha lamentato. E allora perché bisogna sempre lamentarsi di Kojima, ragazzi? Perché è giapponese? Perché non sa parlare l'inglese? Cioè, non lo so. Non credo di dover aggiungere altro, ragazzi. Siamo seri e siate svegli. Alla prossima, sempre qui, su Beyond Games. Ciao. Oh my god! Oh my god! Oh my god!